Ieri sera l'amministrazione comunale di Padula ha incontrato imprenditori e cittadini per presentare il progetto di realizzazione della nuova area PIP di località Pozzo e spiegare il regolamento per l'acquisizione dei lotti. Presso l'aula consigliare della Certosa di San Lorenzo, alla presenza anche del responsabile del procedimento, l'ingegner Michele Tamburini, è stato illustrato il progetto e le caratteristiche dei lotti che variano tra i 1.200 e i 5.000 metri quadri. Una serata di confronto per tutti, nel corso del quale, partendo dal progetto base, così come previsto dall'amministrazione comunale, è stato anche possibile acquisire nuove idee provenienti dalla platea, costituita per gran parte da imprenditori che hanno potuto mettere la loro competenza e la loro esperienza al servizio del progetto. Al tavolo dei relatori il sindaco Paolo Imparato e Giovanni Cancellaro, consigliere comunale delegato alle attività produttive. Ogni membro dell'amministrazione comunale ha comunque contribuito con idee e valutazioni sulla stesura del progetto, che si pone anche come obiettivo quello di evitare la costituzione di insediamenti produttivi a macchia di leopardo, danneggiando l'immagine del territorio comunale e l'ambiente. Inoltre, come sottolineato da Giovanni Cancellaro, far sorgere attività produttive in aree non ben identificate richiede anche un maggiore dispendio di risorse economiche. Ha affrontato anche il tema relativo al costo per il singolo lotto, fissato a 54 euro a metro quadro, un costo che, come sottolineato dai diversi esponenti dell'amministrazione comunale, si è cercato di ridurre al massimo con una parte delle spese di cui si è fatto carico il Comune. Inoltre, il primo cittadino ha sottolineato come al momento ci si sta già attivando per la candidatura del progetto a finanziamenti, al fine di ridurre ulteriormente i costi. La nuova area PIP di Padula, al servizio di diversi comuni della parte sud del Vallo di Diano, prevede la realizzazione di due rotatorie di accesso e di uscita dalla zona industriale. La prima ubicata a ridosso dell'uscita autostradale Padula Bonabitacolo dell'A2 del Mediterraneo, in collegamento con la Bussentina, che, come affermato dal sindaco Paolo Imparato, sarà realizzata a spese dell'ANAS, che ha già dato la sua disponibilità. Mentre una seconda rotatoria sarà realizzata nei pressi del supermercato, quindi a ridosso del bivio di Padula Scalo.